Bella OIU per intornare sul mio canale, siamo qui oggi per fare la ultima reaction in questa stagione parlamentare giochiamo contro il Lecce, se vogliamo trovare un posto in Roma, un conference o lo meno dobbiamo vincere assolutamente questa partita e sperare qualcosa in Torino a Tavano noi ci vediamo con il match, speriamo di vincere Sottotitoli e Sottotitoli Lo side Lo side Lo fond Sì. Sì, sì, sì. Vapare! E' di gol! Vapare, vapare, vapare! 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 C'è un'auto più calzoni che rivolgono su Grecce che noi, per farvi capire la partita. Ci dobbiamo svegliare se dobbiamo vincere questa partita, ma non c'è proprio uno. Se lo stiamo curando, non tengono voglio, ma non fai niente. Manco un giro in porta per scelare. Così per farci un gollo! Prima di andare via, un gollo! Così per farci un gollo! Così per far ABC! Così per farci un fine. Noi sono vinto, guarda l'opera gli amici, ma se sbagliatevi senza voglia. Noi abbiamo un'altra zona, abbiamo un'altra zona. Stanno ancora andando bene, giù. Noi abbiamo un'altra zona. Buono, buono. Abbiamo usato la sprega di soldi così. Non ci vede, guarda, non ci vede. Non voglio spregare i soldi. Non è possibile. Non è possibile. Siamo a sessere. Stiamo giocando, però senza ultimo. Siamo a sottoporta perché ce lo permettono, ma non per me. No, ma tu mi riusci. Non mi riusci. E io, vai, vai, vai. Bravo, perché l'inglese è l'anguino. Secondary! 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 L'unico che è stato giocando è bronze. Bronze, l'unico che è stato giocando. ematica! Grazie! Grazie. 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 Grazie.